Ciao Greg, come va? Sei contento? Molto, molto. Hai già parlato con il mister? No, non ho ancora. Scusate, non l'hai sentito. Greg, un messaggio per i tifosi? Un messaggio per i tifosi, Greg? No, forse a Roma e sono... Se voglio cominciare subito. Non vedo l'ora. Hai parlato con Di Francesco? No, non ho ancora ancora. Adesso domani raggiungo la squadra e riprendo. Non ho visto nessuno al fatto. Che emozione è essere arrivato il primo Big? Ah, è morto, ma adesso... Vieni! Mazzare, che grazie!